Il film protagonista di questa settimana Videotop è intitolato Oggetti smarriti. La regia è di Giorgio Molteni, protagonisti Roberto Farnesi e Giorgia Wurt. A chi non è capitato di smarrire un oggetto di uso comune? Proprio quello che avevamo sotto gli occhi fino ad un attimo prima? Un orologio, un paio d'occhiali, le chiavi della macchina, la macchina stessa. Un piccolo incidente di percorso quotidiano, dalla sparizione di un cacciavite alla scomparsa di una bambina, mette in riga Guido. Lui è un architetto quarantenne che pensa solo alle donne, alle macchine e alla bella vita. Talmente superficiale da dimenticarsi di avere una figlia di sei anni, Arianna, che lo odora. Fin quando la piccola non gli sparisce letteralmente da sotto il naso. Dapprima pensa ad uno scherzo, poi immagina che Arianna se ne sia andata. Ma dove? È da qui che inizia il delirio di Guido, ed una serie di bizzarre vicissitudini che fanno capo ad un sedicente ufficio oggetti smarriti, che gli permetteranno di conoscere Sonia, la bella vicina di casa, giovane e disinvolta, di cui lui non si era mai accorto prima. Questo è il film protagonista della settimana a Videotop. È intitolato Oggetti Smarriti. Qualcosa di impossibile, è in realtà perfettamente spiegabile. Complimenti, hai scelto Homo Sapiens Sapiens. La prima regola è... Smettete di cercare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.